6 italiani su 10 hanno tagliato gli sprechi alimentari nelle feste di fine anno con la cucina degli avanzi che è tornata prepotentemente nelle abitudini alimentari degli italiani e quanto emerge da un'indagine col diretti XE. Tra chi ha tagliato gli sprechi più della metà ha riutilizzato gli avanzi, una scelta che fa bene all'economia e all'ambiente. Polpetto o polpettoni sono un'ottima soluzione per recuperare il cibo del giorno prima ma anche le frittate possono dare un gusto nuovo a piatti di verdura o di pasta. Per dare nuovo sapore a dolci più tradizionali come il pandoro e il panettone si ricorre invece alla farcitura con creme.